Ciao a tutti ragazzi, sono Nox, questa è Fate E ok, siamo giunti al momento di affrontare Ludez Allend ragazzi Quindi ora ci andremo a fare un bel viaggetto E ci prepareremo per sconfiggerli Questa boss fight sarà sinceramente una delle più impegnative che avrò affrontato finora Anche perché non l'ho fatta moltissime volte visto il percorso che bisogna fare per raggiungerla Eccoci qua ai campi glaciali ragazzi, ora auguratemi buona fortuna E andiamo a batterli Forza e coraggio Forza e coraggio No, non tutte e due, non tutte e due Meno male che erano sincronizzati Dai forza No Rimaniamo concentrati con calma dai Scappa, scappa No, sono troppo lontano No No, no, rimaniamo concentrati Rimaniamo concentrati No, no, rimaniamo concentrati No, rimaniamo concentrati No, rimaniamo concentrati No, rimaniamo concentrati Inoltre Grazie a tutti. No, a rischio. Ora, ora, ora. Sì! Sì! Sì, ragazzi! Ce l'ho fatta! Oh mio Dio! Senza subire danno, ragazzi! Sì, così! Ci avevo perso le speranze, ragazzi. Non ne potevo più. Tre giorni di fila, di prove. Wow, finalmente ci siamo riusciti. Non ho fatto neanche una prestazione... Magnifica, poi me la rivedrò anch'io in video, ma ho fatto qualche errore anche qui, però veramente, ragazzi, sono frustrato, sono stanco. Però finalmente possiamo esultare e proseguire. E vai, ragazzi. Vi mostro subito il livello. Non vorrei dimenticarmi, visto che sono abbastanza stanco. E ora ci aspetta il teletrasporto. Vorrei ringraziare Fumo che gli avevo appena comunicato che ero molto stanco e frustrato. E lui mi ha detto, tranquillo, prova che ce la fai. E ce l'ho fatta. Cioè, subito appena me l'ha detto. Quindi grazie, Fumo. E poi ringrazio anche Rino che mi ha dato anche qualche consiglio sul gruppo Dark Souls Italia. E ragazzi, anche questa sfida è compiuta. E ora, Fate merita datamente si riposa al Falò. E torna a Majula. Alla prossima, ragazzi.